Ciò che ci tengo a specificare come progettista del monumento è che anzitutto il monumento non è né fluorescente né fosforescente. Non credo che presenti degli elementi indecorosi, vorrei specificare una mia dichiarazione del passato, ovvero che sono rimasto stupito dall'assenza di un regolamento e ci tengo a specificare che non lo sono rimasto in ragione del fatto che lo ritenga necessario, bensì in ragione del fatto che viviamo in un paese dove solitamente si trova un regolamento e dei veti per un sacco di cose. Infine, devo dire che sono contento non sia passata la mozione perché credo che avrebbe solo e semplicemente messo dei veti magari all'espressione delle volontà di un defunto e o dei suoi parenti rimasti in vita, quindi sono felice di questo.